Alla domanda se i deva assumano iniziazioni, possiamo rispondere brevemente così. L'iniziazione è in relazione allo sviluppo cosciente del sé e concerne l'aspetto saggezza dell'unico sé. Essa presuppone lo sviluppo dell'aspetto intelligenza ed implica, da parte delle unità umane, la conoscenza del proposito e del volere e la loro partecipazione ad essi mediante l'amore ed il servizio. I deva, ad eccezione dei grandi deva che in precedenti cicli passarono attraverso il regno umano ed ora cooperano alla sua evoluzione, non sono ancora autocoscienti. Essi si evolvono mediante il sentimento e non in forza del potere del pensiero cosciente. Invece l'uomo si sviluppa per mezzo di realizzazioni autocoscienti, auto-iniziate ed auto-imposte sempre più vaste. È il metodo dell'aspirazione e dello sforzo cosciente la più difficile linea di sviluppo del sistema solare, perché non segue la linea di minor resistenza, ma cerca di iniziare e di stabilire un ritmo più elevato. I deva, invece, seguono la via di minor resistenza e cercano di appropriarsi e sperimentare, con la massima intensità e col massimo grado di sentimento e di sensibilità, la vibrazione delle cose quali esse sono. Perciò seguono il metodo dell'apprezzamento, sempre crescente, della sensazione del momento, e non come l'uomo, quello di una svalutazione sempre maggiore delle cose quali sono, o aspetto materiale, che conduce al tentativo di raggiungere ed abbracciare nella propria coscienza la realtà soggettiva, ossia le cose dello spirito, distinte dall'irrealtà oggettiva o materia. I deva cercano di provare sentimento, l'uomo di conoscere. Perciò, per i primi, per i deva, le espansioni di coscienza, che chiamiamo iniziazioni, non esistono, eccetto nel caso di esseri avanzati, i quali, avendo attraversato lo stadio umano, sono in grado di sentire e conoscere che, in accordo con la legge evolutiva, espandono sempre più la loro conoscenza. Trattando di questo argomento impegnativo, si può soltanto accennare brevemente ad alcuni flussi cosmici che producono determinati effetti sulla Terra e nella coscienza degli uomini e che durante il processo di iniziazione determinano dei fenomeni specifici. Prima e più importante è l'energia o forza che emana dal Sole Sirio. Se così si può esprimere, l'energia del pensiero o forza mentale, nella sua totalità, giunge al Sistema Solare da un remoto centro cosmico, attraverso Sirio. Sirio agisce quale trasmettitore o centro focalizzatore e poi emana gli influssi che producono l'autocoscienza nell'uomo. Durante l'iniziazione, per mezzo della verga iniziatica, trasmettitore complementare e potente magnete, quell'energia viene momentaneamente intensificata ed applicata ai centri dell'iniziato con una forza terrificante. Se lo ierofante e i due padrini non la facessero passare prima attraverso i propri corpi, egli non la potrebbe sostenere. Tale potenziamento dell'energia mentale produce espansione e conoscenza della verità, quale è, con effetti duraturi. È sentita principalmente nel centro della gola, l'importante organo di creazione mediante il suono. Un'altra energia raggiunge l'uomo dalle pleiadi, attraversando lo schema di Venere, come l'energia di Sirio passa attraverso Saturno. Essa ha un preciso effetto sul corpo causale, e stimola il centro del cuore. Una terza energia è applicata all'iniziato e influenza il centro della testa. Essa emana da una delle sette stelle dell'orsa maggiore, la cui vita animante ha il medesimo rapporto con il logos planetario di quello dell'ego con l'essere umano. Perciò questa energia è settemplice e differisce a seconda del raggio dell'uomo. Non è possibile qui indicare l'ordine di applicazione di queste diverse energie, né l'iniziazione durante la quale l'uomo viene in contatto con esse. Questi fatti fanno parte dei segreti e dei misteri, e non è possibile rivelarli. Altre forze provenienti da alcuni schemi planetari, come pure da centri cosmici, sono messe in azione dall'iniziatore e trasmesse per mezzo della verga ai vari centri nei tre veicoli dell'iniziato, il mentale, l'astrale e l'eterico. Alla quarta iniziazione, uno specifico tipo di forza proveniente da un centro che deve rimanere ignoto, viene applicato al corpo causale dell'uomo ed è una delle cause della sua disintegrazione finale. Pensando a queste mete che attendono i figli degli uomini, dobbiamo renderci conto che via via che l'umanità completa le varie unificazioni, gli uomini celesti, ai livelli intuitivi e spirituali, si completano anch'essi e a loro volta contribuiscono alla formazione dei centri dei grandi uomini celesti del sistema solare. Questi sette uomini celesti, nei cui corpi trova posto ogni monade umana e ogni deva, costituiscono i sette centri del corpo del logos. Esso a sua volta contribuisce il centro del cuore, poiché Dio è amore, di un'entità ancora maggiore. Il compimento dell'attuale sistema solare avverrà quando il logos conseguirà la quinta iniziazione. Quando tutti gli uomini giungeranno alla quinta iniziazione egli perverrà al conseguimento finale. Questo è un grande mistero a noi incomprensibile.